era d'agosto un povero uccelletto ferito dalla fionda di un maschietto sa indieta riposà con all'offesa sulla finestra aperta di una chiesa dalle tendine del confessionale e il prete intese e vide l'animale ma dato che là fora c'erano non so quanti peccatori richiuse le tendine espressamente e continuò a confessare la gente e mentre che tutta quella massa di persone era intenta all'orazione senza guardare niente l'uccelletto un uomo lo prese e se lo mise in petto allora per tutta la chiesa si sentì un forte cinguettio chip 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 e il prete risentendo l'animale lasciò il confessionale e poi nero nero come la pece salì sul pulpito e la fece fratelli per favore chi ha l'uccello esca fuori dal tempio del signore l'omini tutti quanti in una volta sarzarono a andare verso la porta ma a quello sbaglio madornale il prete fermi gridò che mi è sospresso e male state mi sentì tornate indietro qua chi ha preso l'uccello deve uscire a testa bassa e la corona in mano cento donne sarzarono piano piano e mentre che lasciavano la casa del signore il prete ricritò sbagliato ancora rientrate fiammata io non volevo dire perché pensate volevo dire e torno ripete che chi ha preso l'uccello deve uscire ma lo dico a voce chiara e stesa a chi l'uccello l'abbia preso in chiesa in quello stesso istante tutte le moniche sarzarono tutte quante ecco il viso pieno dei rossori lasciarono la casa del signore oh santa vergine scarmò il buon prete fatemi la grazia se potete senza far rumore dico piano piano sorta chi adesso ha l'uccello in mano una ragazza che col fidanzato si era appartata in un angolo del sagrato sommessa mormorò col viso smorto che te dicevo e il prete se ne è accorto grazie a tutti grazie a tutti